Terroristi a sale alla baita di Babbo Natale, la notte in cui la renna morì, non mancate. Non può trasmettere quello spot, sembrava il trailer di una nuova serie della famiglia Adams. Frank Ross non è solo il più giovane presidente di ogni tempo di una rete televisiva. Chiamare sicurezza, cambiare seratura, sgombrare scrivania e sbatterlo fuori. È Natale! Grazie! Sospendi gli straordinari. Attenta! È anche un premuroso capo. Grazie ragazzi, chiamate un'infemera. Non riesco a incollargli le corna, abbiamo provato la colla più forte ma non funziona. Avete provato con le grafette? Ma la sua vita sta per cambiare. Riceverai visita da tre fantasmi, domani a mezzogiorno. Domani è una giornata, c'è per me, veramente sono occupato tutta la... Chiunque pensasse che odia il Natale, si sbaglia. Oddio! Frank Ross odia i fantasmi. A me piace molto. Io sono il fantasma del Natale presente. Un tasto pane! Ho avuto una pessima giornata. Bill Murray. S.O.S. Fantasma. Ehi, sta indietro. Questo funziona con i polli, non con me. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.